ciao a tutti bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su 112 operator quello che è il seguito di 911 operator il gioco esce il 23 di aprile e attualmente in inglese non so se in futuro sarà tradotto in italiano non ve lo so dire avrà probabilmente il workshop quindi magari se non sarà tradotto dagli sviluppatori sarà tradotto direttamente dagli utenti cosa non giustissima ma va bene è molto interessante per il fatto che vi consente di gestire tre unità diverse di soccorso dalle ambulanze i vigili del fuoco e la polizia dovete prendere delle decisioni su dei casi magari quantomeno un po sospetti ma la cosa più interessante è che si basa sulle mappe gps quindi voi potete mettere il vostro paese e limitrofi e quindi giocare con le vie che conoscete allora adesso vi faccio vedere il free game free game io ho partito dalla mia sono partito dalla mia provincia però voglio fare una cosa diversa perché ovviamente qua poi è molto strana perché mi dà solo il capoluogo di provincia poi in realtà vi carica tutti i paesini quindi andiamo a prendere magari non lo so non lo so non direi milano ma non vi prenderei tutti i paesi del mondo qua quindi magari possiamo pensare di fare qualcosa tipo trento e facciamo trento facciamo un controllo di vedete qua vi carica tutti i paesi trento 2 trento 1 diviso in tutte queste sezioni posso scegliere una una zona io scelgo questa potete spendere dei punti carriera per poi aggiungere ulteriori zone a quella che già vi dà il gioco quindi inizio prenderne una prendiamo valle laghi mi piace poi se qualcuno abita lì me lo faccio sapere andiamo facciamo la difficoltà semplice dovremo anche gestire delle telefonate che ho trovato al momento molto comprensibili niente il gioco adesso si sta scaricando le mappe e niente riceveremo dei delle telefonate qui dovremo scegliere come rispondere con una risposta multipla e dovremmo anche interpretare se chi ci sta chiamando ci sta diciamo prendendo in giro ci sta facendo uno scherzo o se il caso che stiamo andando a prestare soccorso è stato causato da ignoti o direttamente dalla persona che ci sta chiamando quindi è molto interessante come tipo di gioco attualmente abbiamo tre mezzi abbiamo l'ambulanza con tre persone a bordo abbiamo la polizia con due e i vigili del fuoco con quattro quindi a questo punto si comincia vedete che qua abbiamo odio ho scelto una zona abbastanza particolare perché qua vedete che ci sono le varie estrazioni quello che gioco ci dice di fare all'inizio è di andare a posizionare i nostri mezzi in dei punti strategici quindi magari andiamo a metterli in zona dato che copriamo questa zona lo piazziamo qui magari in modo da da poter piazzare un po' a riuscire a coprire un po' tutto start ok abbiamo una collisione lì ci mandiamo la polizia però vedete ci mette una vita arrivarci quindi accettiamo il lavoro quindi adesso la polizia ci sta andando e poi vedremo diciamo lo schema della della scena intanto acceleriamo un po' il tempo e vediamo se arrivano altri incidenti nel frattempo perché saranno davvero molto accedere il tempo perché veramente ci mettono una vita abbiamo un nuovo incidente la tanto da un'occhiata che cos'è a violazione parcheggio vabbè direi che uno ha parcheggiato in divieto di sosta ma al momento ce ne freghiamo perché abbiamo un incidente qua da fare quindi non è che possiamo stare qua abbiamo solo unità tra l'altro possiamo anche chiedere l'intervento di backup da un comune vicino che al corso di 5000 dollari ci manderà una pattuglia di polizia direttamente qua però io non ho intenzione di di farlo al momento per un parcheggio intanto siamo quasi arrivati sul posto acceleriamo e vediamo come va la cosa ok siamo arrivati vedete che ci sono gli agenti che si avvicinano all'incidente il sospetto due sospetti nina testa e claudia ferrari in pratica i nomi vengono presi in base alla nazione da cui in cui stiamo giocando e te stanno facendo adesso stanno facendo non so se la constatazione amichevole insomma li stiamo mettendo d'accordo abbiamo forse un nuovo incidente adesso mettiamo qua assistenza medica ok ambulanza direttamente lì intanto accetto e mandiamo l'assistenza medica lì vedete che intanto qua c'è una zona rossa quindi significa che il tizio qui sta bloccando tutta questa strada ci andremo dopo che avremo finito questa cosa qui con con questi tizi abbiamo una chiamata una chiamata vediamo speriamo che 112 qual è la vostra emergenza ciao c'è un'auto che mi sta seguendo potreste per favore aiutarmi dove sei e vedete che poi vi darà anche la via nella mia car ma nella mia macchina sto guidando in via del ponte 105 lì ok figo è lontanissimo dall'avanzo polizia sei da sola stai usando il viva voce che auto una black a chi conosco il guidatore chi è era una persona alla festa era veramente hai bevuto alcol no no non bevo se io devo guidare non so cosa fare allora metto in pausa non posso mettere in pausa guida in modo sicuro intanto qua abbiamo finito quindi te li mando incontro posso dire di no emergenza organizzerò una routine perfetto intanto stiamo arrivando sul luogo dell'emergenza qua con l'ambulanza vedete che sta entrando la polizia gli infermieri sono entrati i dottori e stanno prestando soccorso adesso al malcapitato qua poi una volta che dovranno portarlo via lo porteranno alla stazione più vicino vedete questa o questa è una zona abbastanza un po come la mia dove vivo io un po così probabilmente queste qua sono anche zone di montagna quindi che cosa sta succedendo qua ok qua vedete la reputazione quando giocavo normale avevo caso risolto ah perfetto l'hanno curata sul posto non la devono neanche portare via c'è un tizio qui che ha rubato un sospetto che ha rubato ha borseggiato pickpocket e adesso ci vediamo adesso andiamo nella zona dove abbiamo questo questa sorveglianza e vediamo cosa succede possiamo anche prendere appunti ok vedete li abbiamo fermati tutti e due donna gucci sta andando a inseguire le due auto vediamo che cosa succede intanto vediamo cos'è questo parking violation abbiamo ancora ok quindi ok stanno facendo check andiamo che abbastanza velocemente caso risolto non so come sia finita e dovrei andare a cercare di capire come si fa a vedere la come si è risolta la missione di prima ma abbiamo risolto il caso adesso polizia deve inseguire lui non so se c'è un modo di vedere si va bene il vento la temperatura l'acqua c'è una chiamata qual è la tua emergenza io aiuto mia ragazza ha bisogno di aiuto che è successo ha perso i sensi dopo aver preso le sue pillole tutte abbiamo avuto un combattimento address dammi prima l'indirizzo intanto inizio a mandare l'ambulanza alla polizia via vezzana 154 siamo in bagno ok polizia stroke cos'è stroke si arriviamo arriviamo non so se fai gassare quanti anni ha ha 22 anni si l'ho già fatta gli sto telefonato battito ok è veloce il battito non ne sono sicuro il battito è debole no dice manderò che pillole antipsicotici antipanico non avevo medicine hai medicina intorno cloropromazine cloropromazine non è rimasto una singola sintomi non risponde non risponde la sua pelle sembra fredda falla vomitare no non si fa mai vomitare mando l'ambulanza cosa dovrei fare mettila in posizione di emergenza insomma di soccorso intanto lo sta facendo noi intanto stiamo arrivando con l'ambulanza la polizia sul posto aspetta l'ambulanza ok se si smette di respirare fate la il battito insomma la respirazione ecco li vedete che stanno entrando tutti hanno detto we have a fight quindi abbiamo avuto un litigio insomma stanno interrogando anche lui writing ticket vediamo come va a finire ah lo lasciamo lì con lui abbiamo parlato e lei la portiamo via ok loro vanno già alla station qua all'ospedale insomma al pronto soccorso abbiamo un incidente qua siamo in culandia un po' come capita da me nelle mie zone insomma quando ho provato nella mia partita dove si saliva qua e visibilmente una strada di montagna c'è un esibizionista vabbè ma ragazzi cioè non posso mandare un'unità di polizia in montagna vabbè poi se c'è qualcuno in zona di trento che che conosce le zone e ci vive mi faccia sapere che mi farebbe piacere di avere involontariamente preso una zona dove siete voi hanno aggiunto in questo nuovo 112 operator rispetto al 911 delle nuove meccaniche di vigili del fuoco ma purtroppo non so direvi quali perché perché non ci ho mai giocato a 911 questo ha bisogno di un medico perché si è fatto male quindi appena l'ambulanza qua avrà depositato lei in ospedale ok abbiamo due posti letto sull'ambulanza ok perfetto ok caso risolto vai lì per favore fai il giro intorno al lago che almeno li portiamo ok intanto vediamo cosa succede qua c'è un esibizionista ok l'abbiamo già placato ok vediamo intanto cosa succede qui abbiamo v Leonardo Gallo infortunato caso risolto ah lo stiamo portando proprio in fretta e furia ok riporto la polizia no c'è una chiamata qual è la tua emergenza ho un'emergenza sì che è successo sì dimmi intanto dove sei che arrivo perché già la telefonata non mi piace che tipo di incidente no dove sei io che tipo di incidente adesso l'ambulanza scarica e riparte abbiamo giocato con una lampadina no ok forse la polizia non serve eh no sei stato fulminato no stiamo facendo finte di niente eh chiedere o che sei quello che hai sirsinato durante l'intercorsi ma Mandiamo un'ambulanza. No, polizia, ok, non serve. Sì, va bene, vai, dai, dategli una mano a quel poveretto con la lampadina. C'è una lampadina. Va bene, insomma, è finita in modo divertente questa, però, va bene. La polizia dovrebbe andare a fare quell'affare lì. Vediamo. Anzi, no, abbiamo questo da fare. È un furto. Lo hanno fermato, placcato immediatamente. Giuseppe Castiglione. Ogni riferimento, persona, cosa, puramente casuale. Ok, lo portano a casa. C'è un tizio qui che è un allarme fire, quindi lo mandiamo subito. Non so che cacchio sia successo qui. Ok, vabbè. Voglio vedere questi io, però, eh. Ok, Ottavio Pugliesi. Cioè, da solo. Vabbè, poi mi direte che cosa significa l'intercourse. Comunque, lo portiamo a recuperare la lampadina, insomma. Ok, vediamo un po' l'intervento qua dei vigili del fuoco. Allarme caso risolto. Il dovere è finito. La finestra ti permette di guardare tutti gli incidenti successi durante l'ultimo turno di lavoro. E in ogni caso puoi vedere che cosa è successo. Allora, vediamo un po'. Voglio vedere... Ah, ok. Allora, Fire Alarm. L'ultimo. Non sappiamo, non mi dice niente. Ok. Resibizionista. Ah, ok. Va bene, va bene. Dai, abbiamo fatto quello che dovevamo. Abbiamo fatto anche abbastanza bene. Quindi. Bene. Allora, abbiamo mail nuove. Istruzioni, novità sul primo soccorso. Ok, queste sono le mail. Questi sono gli obiettivi. Mantenere una reputazione positiva. E... Prestare primo soccorso. Va bene. E vedete che qua ci sono i giorni. Possiamo iniziare una nuova giornata lavorativa. Ci sono distretti. Statistiche. Il tempo atmosferico. Ora per ora. Abbiamo i soldi. Possiamo aggiungere un nuovo distretto per complicarci ulteriormente la vita. Ma vorrei capire... Ok, infatti si può aggiungere una nuova unità. Ambulance, transport ambulance, pattuglia, police van, camion tecnico. Ah, di cose da fare ce ne sono però, eh. Va bene. Bene ragazzi, questo era 112 operator. Non mi spingo oltre perché mi sembra già andata ben oltre le aspettative. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Il gioco uscirà il 23 di aprile. Non so ancora dire il costo. Sembra essere molto interessante. Anche in inglese. Questo lo ammetto. Poi se arriverà in italiano ancora meglio. È un gioco di amministrazione, insomma, di coordinazione. Bisogna essere veloci. Bisogna amministrare molto bene la logistica, il movimento dei mezzi. Soprattutto all'inizio che non c'è, non ne abbiamo molti. Quindi fatemi sapere e alla prossima ragazzi. E ciao ciao.